Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA Online a parlarvi di una notiziona davvero molto importante e sconcertante. Io vi invito a vedere tutto il video e poi alla fine commentare facendomi sapere anche la vostra perché è importante. E poi alla fine magari anche lasciarlo like al video o lasciarlo anche ora perché no. Bene ragazzi iniziamo subito con questa notizia che probabilmente sapevate già, probabilmente no, però poco importa perché sono qui per dirvi la mia soprattutto. Ragazzi la Rockstar ha deciso di non fare più DLC per le console di vecchia generazione ovvero PS3 e Xbox 360. Perché ragazzi? Perché ha trovato questa scusa che ci sono pochissimi utenti ultimamente, insomma pochi per il loro standard e le console di old gen non sono più in grado di supportare i nuovi aggiornamenti. Ragazzi secondo me questa è una scusa, una puttanata immensa, una scusa, un alibi che si è creata dalla Rockstar per insomma non far rimanere male le persone ma comunque ha fatto rimanere male tutti quanti secondo me. Io personalmente che comunque ho anche la next gen ho acquistato GTA 5 per old gen non vedo per quale motivo non devo più avere lo stesso trattamento tra virgolette delle persone che hanno acquistato la next gen. Però raga devo dire la mia sinceramente. Da una parte è positivo perché se non si occuperanno più della old gen vuol dire che faranno DLC più corposi e DLC che insomma vanno a sfruttare al massimo le console di next gen. Però dall'altra parte è negativissima la cosa perché? Perché cazzo tu mi vai a togliere l'unica cosa che aggiungevi nelle console, insomma nel gioco e mi vai a togliere almeno quell'unico svago che avevo per avere di nuovo lo stimolo per giocare di nuovo a GTA? Se tu me lo vai a togliere mi secco il cazzo di giocare a GTA, è chiaro, è chiaro praticamente. Beh ragazzi la Rockstar ha fatto una cosa davvero bruttissima. Non si occupa più delle persone appunto della old gen. Dovrebbero rispettarle secondo me queste persone perché tra virgolette hanno fatto la beta tester per GTA 5. È una cosa bruttissima perché praticamente li ha solamente sfruttati. Cara Rockstar ti dico io come cazzo si fanno questi DLC? Ci sono due fottutissime possibilità. Uno, la più semplice magari, è quello di fare due DLC. Uno, quello corposo per la next gen e l'altro magari, quello là dove aggiungi due auto alla cazzo di cane che comunque vanno a rinfrescare il mondo di GTA online. Mentre la seconda possibilità un po' più complicata è quella di fare un unico DLC, però la parte più pesante di questo DLC la tagli, la elimini e la butti via. E quella più leggera la carichi sullo store e insomma la fai diventare un DLC, ovvero le auto e i vestiti insomma, almeno queste minime puttanate. Mentre la parte più pesante la fai rimanere per le console di next gen. Almeno questo rega, secondo me almeno questo poteva fare la Rockstar, anzi può fare, è ancora in tempo tra virgolette. Infatti ragazzi il prossimo DLC che arriverà il 15 settembre sarà disponibile solamente per next gen e PC, quindi per PS3 e 360 non sarà disponibile. Questa è una cosa davvero brutta, sì è vero che la old gen non può supportare l'editor e cazzate varie. Beh, è semplice minchia, è semplice. Togli l'editor, togli la parte pesante del DLC, fai rimanere quella leggera e la carichi sullo store e la fai diventare DLC. Boh, minchia non ci vuole un cazzo. Bene ragazzi il video si conclude qui, io ho detto la mia, spero di essere stato il più chiaro e il più esplicito possibile. Scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate voi di questa notizia, che cosa ne pensate voi di questa cosa che sta facendo la Rockstar. Se sapevate già della notizia, se non lo sapevate e l'avete scoperto ora e mi dispiace perché l'avete scoperto in un modo brutto. Ragazzi vi invito a lasciare un like al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, passate per la mia pagina Facebook, link in descrizione, profilo Facebook, link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!